Libertà e giustizia ha sentito l'esigenza di questa iniziativa, questo appello in sostegno al candidato Pisa-Pio? Perché è nelle sue corde profonde, è un'associazione di cultura politica e sarebbe sembrato strano che in un momento che tutti avvertiamo poter rappresentare una svolta, non essere anche noi con la nostra voce. Un ponte tra la società civile e la politica intesa nel senso dei partiti che normalmente deludono le aspettative ma contemporaneamente sono fondamentali per l'andamento delle istituzioni, quindi costringerli a essere migliori, a cambiare, a rinnovarsi. Dicevo prima che siamo una goccia nell'oceano, però siamo qui sempre una goccia e gli oceani sono fatti di gocce. E ho avuto un momento importante, il giorno del Palasciar, il 5 febbraio scorso, quando Pisa-Pia stesso è stato sottoposto a un bagno di folla, si è immerso, e quando Roberto Saviano e Umberto Eco hanno fatto sentire la loro voce per risvegliare l'orgoglio nazionale contro questo degrado imposto da Berlusconi. Questa storia appunto della sanatoria, delle multe, è come se le multe fossero a disposizione dei governanti. Le multe sono sanzioni per la violazione della legge, quindi sono elementi che dipendono dal principio di legalità, non dalla benevolenza di qualcuno che mette e toglie secondo che convenge. E' la mentalità del sovrano. Voleva che sottoscrivessi un appello per votare Berlusconi? La contrapposizione voluta dal Presidente del Consiglio non era tanto Pisa-Pia Moratti ma Pisa-Pia Berlusconi. Lui ha detto questa volta votate per me. Quindi a parte tutti i meriti di Pisa-Pia che sono pronto a sottoscrivere, eccetera, ma in ogni caso era l'uomo da votare per dare un segno di sfiducia al Presidente del Consiglio. E la cosa è vera a tal punto che adesso che vede che le cose vanno male, cosa sta dicendo Berlusconi? Gli ho sentito dire già due volte in televisione, ma si sa, nei comuni vittoria e sconfitta dipende dalla personalità del candidato. Quindi sta dicendo non sono più in gioco io, è gioco quella poveretta lì che si vede che non è capace. Cioè la butta giù dalla macchina, la butta giù dal carretto e questo vuol dire che sta perdendo la testa. È un momento di possibile svolta, bisogna essere molto cauti, gli storici sono sempre cautissimi. Può essere l'inizio della fine, può essere che c'è un altro inizio da parte di Silvio Berlusconi. Lui è molto capace ed è molto determinato. Se si torna ai ritagli di giornale, si torna per esempio al 2008, hanno detto che Berlusconi era spacciato definitivamente. E tutti hanno parlato solo del dopo Berlusconi. Poi lui ha recuperato, è più difficile se perde Milano recuperare, ma non è affatto impossibile. Però il clima di Milano di questi giorni, di quanto mi viene raccontato, fa sperare molto. Penso che è riuscito a intercettare tutte le componenti della società milanese. Si è abbattuto le periferie, non è andato in giro il limusino con l'autista, ma è andato a piedi. Un sindaco che si è qualificato andando a piedi per la città e cercando di contare tutti. Per cui si verifica addirittura questo miracolo che se si sta a sentire i berlusconiani, lui è rappresentante della sinistra, mentre sappiamo che al tempo stesso è diventato rappresentante della porgesia illuminata.